buonasera e bentornati ancora una volta qui sul mio canale io sono barbara e sono pronta a darvi quelli che sono gli ultimissimi aggiornamenti mi raccomando seguitemi fino alla fine parliamo del nuovo bonus 150 euro per i disoccupati finalmente in arrivo quindi mi raccomando seguitemi ma prima iscrivetevi al canale con campanellina per ricevere tutte le notifiche in tempo reale e poi una pioggia di super like quindi arriva finalmente il nuovo bonus 150 euro per i disoccupati vediamo quali sono le ultime novità il bonus 150 euro disoccupati abbiamo per questo le date finalmente di arrivo quindi vediamo quando arriva e cosa controllare sul sito dell'inps per il pagamento del bonus 150 euro disoccupati quindi finalmente c'è la data che arriva direttamente dall'inps il bonus 150 euro quello del decreto aiuti ter introdotto nel 2022 viene pagato quindi entro la fine di febbraio ai percettori dell'indennità di disoccupazione di naspie della discol e ora finalmente ripeto abbiamo una data precisa vi ricordo che il requisito specifico per ottenere il pagamento di questo bonus entro la fine di febbraio è la titolarità della disoccupazione a novembre 2022 pertanto lo prenderanno anche coloro che al momento sono senza naspi perché scaduto è venuta meno per altri motivi la data comunicata per la maggior parte dei beneficiari del bonus 150 euro disoccupati quella di lunedì 27 febbraio 2023 in ogni caso il pagamento del bonus di 150 euro disoccupati è comunque previsto entro la fine della prossima settimana per tutti quindi anche se non siete tra coloro che magari già il 27 riceveranno questa somma comunque controllate il vostro fascicolo previdenziale perché comunque entro la fine della prossima settimana e cioè il 3 di marzo dovrebbe giungere a buon fine il pagamento per tutti i disoccupati quindi questa l'ultima ora di speedy news se avete apprezzato i contenuti del video mi raccomando tantissimi like ma soprattutto iscrizione al canale con campanellina e poi ci vediamo presto qui su speedy news con il prossimo video abbonatevi non mancate arrivederci a tutti buona serata a tutti buona serata a tutti buona serata a tutti buona serata Grazie a tutti.